Buongiorno a tutti, sono Marco Massi, oggi andremo a realizzare una crema pasticcera. Gli ingredienti sono 800 g di latte, 200 g di panna, 500 g di tuorli, 300 g di zucchero, 100 g di amido di riso, una bacca di vaniglia, 5 g di sale, 5 g di rum. Iniziamo con la preparazione, versiamo in un recipiente il latte e la panna, portiamo ad ebollizione. Nel frattempo in una ciotola mettiamo i tuorli, l'amido di riso e creiamo una pastella. Questo sarà il risultato che otterremo. Prendiamo la bacca di vaniglia, la incidiamo, ne estraiamo la polpa e la andiamo a mettere nel latte. Quando il latte sarà ormai caldo, verseremo il sale e lo zucchero. Attendiamo che il latte sia arrivato a bollore prima di inserire lo zucchero in modo di facilitare il suo scioglimento. Una volta arrivato ad ebollizione con il latte, stemperiamo la pastella che abbiamo realizzato precedentemente ed andiamo ad incorporare la pastella al latte. Portiamo il tutto ad una temperatura di 82 gradi. Una volta raggiunti gli 82 gradi, tiriamo via dal fuoco, inseriamo il rum all'interno. e andiamo a versare in un recipiente freddo in modo da bloccare la cottura. Cerchiamo di farlo raffreddare il prima possibile e chiudiamo mettendo della pellicola a contatto. Portiamo a più 4 e più velocemente possibile. Grazie 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 Grazie